Ciao a tutti, sono felicissimo di presentarvi il mio ultimo quadro che si intitola LHCAC, lei ha caldo al culo, sottotitolo Sogno femminista ma anche di tanti poveri. Se siete interessati, come tutte le cose, anche questo mio lavoro è in vendita e costa 5 milioni di euro. Allora, premessa, prima di iniziare a insultare, minacciare di morte, denunce, ladigos, carabinieri, polizia, guardia di finanza, eccetera, ricordate, vi prego, che si tratta di un'opera d'arte, quindi, come tutte le opere d'arte che si rispettino, è provocatoria, irriverente, si prende gioco del potere e dei potenti da qualunque lato essi stiano e soprattutto è stata creata semplicemente per far riflettere. Ecco, diciamo che è un modo del tutto simbolico di interpretare la realtà, quindi non rappresenta in alcun modo il mio pensiero e mi dissocio da qualunque interpretazione chiunque ne voglia dare. Allora, se siete pronti, giro la telecamera e vi presento l'opera. Bene, eccoci qui, questa è l'opera, quindi chi conosce un minimo la storia dell'arte ha certamente capito che mi sono ispirato dal celebre ready-made di Marcel Duchamp intitolato L-H-O-O-Q. Lettere che in francese si pronunciano L-H-O-O-Q e che, se lette velocemente, suonano appunto come la frase francese L-H-O-O-Q, che significa Lei ha caldo al culo, che è appunto anche parte del titolo della mia opera. Ricordo che il sottotitolo è Sogno femminista, ma anche di tanti poveri. Ecco, per chi invece non conoscesse Duchamp, si tratta della celebre gioconda con i baffi e il pizzetto. Allora, chi è questa donna che ha caldo al culo? Caldo al culo nel senso che è molto stressata per i suoi tanti impegni, così stressata che si sente letteralmente e metaforicamente sottosopra. Quindi è una donna italiana molto famosa, come lo è appunto la gioconda, però lei è bionda. E siccome è a testa in giù, i suoi fluenti capelli appunto sono vinti, diciamo così, dalla forza di gravità. Come nel quadro di Duchamp, anche questa gioconda ha i baffi, ma anziché essere sottili, hanno appunto una forma che conosciamo tutti molto bene e li vediamo qui nel dettaglio. Notiamo poi due cerotti all'altezza del cuore, forse, e dico forse, perché a un certo punto della sua vita questo organo le è stato rimosso. Adornano poi l'opera dei marchi dell'aesso, così come erano disegnati tanti anni fa. Bene, questo è tutto, se ti va fammi sapere cosa ne pensi e soprattutto se hai 5 milioni di euro e vuoi acquistarla, mettiti in contatto con me.